Grazie a tutti in particolare per il giorno della vita di Natascia, che noi vogliamo fare oggi di estragere e di azione. Chiediamo il dono dei nostri peccati. Confesso a Dio mio Pente, a voi forse e miei sorelle, che ho molto peccato a miei pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e subito la meata, sempre e mece Maria, gli angeli e i santi, e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore è Dio nostro. Dio di Potente, andiamo se ricorda di noi, perdono i nostri peccati, e ci coltura la vita eterna. Amore. Chievi e melezzo, chievi e melezzo, Cristo e melezzo, Cristo e melezzo. Chievi e melezzo, chievi e melezzo. Prendiamo. O Dio, che sempre usi, misericordia e perdono, ascolta le preghiere che ti rilogiano, per Natascia, che hai fatto passare a te da questo mondo. E poiché, interiaspirato e creduto, conduci dalla Patria del Cielo e donare la gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, lo Figlio che è Dio, e vivere in mia con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amore. Ci mettiamo in sedere e ascoltiamo la parola di Dio.